Buone nuove per gli operatori e operatrici dei servizi di assistenza anziani e disabili nella città di Pagani. Una delegazione degli operatori in questione è riuscita ieri sera finalmente a incontrare uno dei commissari di Palazzo San Carlo ottenendo risposte confortanti rispetto ai ritardi nei pagamenti delle prestazioni fornite. Anni di attesa per riscuotere il proprio compenso, tante promesse mai mantenute e incontri rinviati. Ieri sera invece l'ha schiarita, finalmente il problema sarà risolto entro breve tempo, ha promesso il rappresentante della triade commissariale. Il commissario ci ha promesso che ci avrebbe dato risposte, dunque lunedì ha detto che ci farà sapere. A me puoi chiamare, poi venerdì ha detto che andrebbe al piano di sole. A me ci fa sapere. In due anni non l'abbiamo proprio visto e quindi ci ha sollevato, si 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 si, si è rincuorato. Speriamo che risolviamo qualcosa, speriamo. A me risolviamo. Spero che sia una persona sincera. Ha tentato di parlare. La mia famiglia è una persona sincera, ha preso a cuore comunque la nostra situazione e quindi speriamo bene.